E a 125 SP, quinto classificato Federici Franco La busta, Federici prende la busta Quarto classificato Cosimi Rudy Quarto classificato Monttomoli Massimo Secondo classificato Faini Walter Primo classificato Papa Gersomino La classifica 600, quinto classificato Clemona Franco Quinto Quarto classificato Costa Fabio Terzo classificato Critti Antonino Secondo classificato Cigolini Pietro Primo classificato Pozzo Paolo Franco E Cremona Franco Paolo Vediamo un attimo La Stefano Bravo Quarto classificato Lazzeri Giovanni Terzo classificato Truffa Claudio Bravo Secondo classificato Marcelli Riccardo Primo classificato Bordone Adriano Bravo 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 Dettro classificato Cosmi Renzo Secondo classificato Cosmi Renzo classificato Fazzi Marco, primo classificato Mortellaro Antonino, classifica classe 125 GP, quinto classificato Cantarelli Curtis, quarto classificato Bertolami Salvatore, terzo classificato Carlevaro Giacomo, secondo classificato Merla Giampietro, viva classificato Pitta Luga Andrea, quinto classificato Cocco Massimo, quarto classificato Rosa Cesare, terzo classificato Timpano Roberto, secondo classificato Angelo Santa e Marco, e primo classificato Rui Renato, Rui Renato, categoria Saedekar, quinto classificato Caimano Carbonio, quarto classificato Leone, Leone, terzo classificato Strano Longo, secondo classificato Sullo Armanino, primo classificato client T cook野菜, quinto classificato, Points Chiffono, secondo classificato 다 D' righteous ciò che pensa Azzonario, prima di Relaxa cosa, questa sta la piuvaice, Grazie a tutti